ragazzi il mondo è un capitolo davvero molto bello che se siete fan di zoro vi farà emozionare se volete proseguire con gli spoiler bene altrimenti attendete la lettura del capitolo ma per i più curiosi vai con le emozioni lo commenti anche tu salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per il video dedicato agli spoiler completi del capitolo 1033 di one piece ma prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video e cosa davvero molto importante ragazzi è quella di seguirci attraverso instagram fatelo subito ragazzi abbiamo visto che avete acquistato tante pop di rufy perché ancora lo volesse fare lo trovate sempre sul sito pop in a box trovate il link in descrizione purtroppo però le spese di spedizione adesso sono a pagamento ma rimane comunque una special edition con un prezzo davvero vantaggioso quindi tra poco andrà sold out quindi ragazzi se volete acquistarlo prima di natale è ancora disponibile quando lo ricevete ragazzi taggateci nelle storie su instagram e vi riposteremo il titolo del capitolo sarà shimotsuki kozaburo la copertina sarà dedicata a tashiji e smoker che stanno giocando con dei pinguini in un'isola ghiacciata il capitolo inizierà fuori dal castello di onigashima dove zoro e king continuano a combattere zoro si lamenterà con la emma di essere andata fuori controllo senza permesso e poi riuscirà a riprendersi il suo haki vedremo infatti il braccio di zoro ritornare normale king coglierà l'occasione per saltargli addosso ma all'improvviso si fermerà davanti a zoro senza fare nulla zoro sarà sorpreso ma trafiggerà con la sua sandaiki tezzo la pancia di king tuttavia l'attacco non gli farà nulla all'improvviso ci sarà un'enorme esplosione nel punto in cui si trovano si passerà a questo punto alla sala del piacere vedremo queen che è stato colpito duramente da sanji nel capitolo 1031 che ha attraversato più stanze lo vedremo quindi tornare da sanji queen si metterà a ridere e dirà a sanji se ha appena parlato con il cacciatore di pirati proseguirà aggiungendo che quel ragazzo non può vincere contro king sanji non risponderà e queen andrà oltre dicendo che king è un sopravvissuto dell'estinta razza lunaria dirà che si tratta di una razza mostruosa che può sopravvivere in qualsiasi condizione in natura ecco perché venivano chiamati dei dalle persone nei tempi antichi sanji chiederà come si è estinta questa razza e queen risponderà di andare da lui e chiedergli di persona di raccontargli la sua storia ma mentre queen dirà questo lo vedremo preparare la bocca per sparare un raggio laser a sanji si tornerà all'esterno del castello di onigashima zoro sarà riuscita a ricoprirsi con l'acchi dell'armatura giusto in tempo altrimenti sarebbe morto king sarà di fronte a lui il leso nonostante si sia appena fatto esplodere zoro attaccherà di nuovo king a bruciapelo ma non gli farà nulla king senza muoversi da terra si trasformerà in terranodonte e afferrerà nuovamente la cresta della sua testa per attaccare zoro con tempura udon vedremo zoro estrarre le sue spade per contrastare l'attacco di king ma enma perderà il controllo e inizierà ad assorbire di nuovo l'acchi di zoro zoro riuscirà a schivare l'attacco di king e verrà parzialmente colpito l'attacco distruggerà parte dell'isola di onigashima e a causa di questo zoro lascerà cadere le sue tre spade king sarà sorpreso di vedere uno spadaccino trascinato a terra dalla sua stessa spada dirà che questa è la prima volta che vede una cosa del genere a questo punto zoro salterà giù per afferrare una delle sue spade afferrerà la sandaiki tetsu mentre sarà in aria zoro ricorderà la conversazione che ha avuto con i tetsu su quella spada i tetsu in passato ha notato che zoro possedesse la sandaiki tetsu e gli disse che era una delle sue zoro sorpreso ricorderà anche come ha ottenuto la spada a roghtown rivedremo infatti il momento in cui disse ad ippomatsu che la spada fosse maledetta e il negoziante gli rispose che non poteva vendergli quella spada si sarebbe sentito responsabile della sua morte ma zoro l'ha presa lo stesso king volerà su zoro e lo prenderà a calci con un attacco infuocato che colpirà lo spadaccino vedremo quest'ultimo infatti essere colpito gravemente ma si alzerà per afferrare un'altra delle sue spade lo vedremo prendere la wado ichimonji ed è proprio in quel momento che zoro ricorderà il momento in cui ha ricevuto la spada di kuina lo vedremo chiedere a koshiro se può prendere la sua spada e dopo che koshiro acconsente all'interno di questo flashback vedremo zoro dire che deve mantenere la promessa per entrambi per lui e kuina che sarebbe diventato un così grande maestro di spada tanto da far conoscere il suo nome anche in paradiso zoro poi ricorderà il resto della conversazione con itetsu itetsu gli disse che la wado ichimonji e la enma sono state entrambe realizzate dallo stesso uomo il fabbro shimotsuki kosaburo zoro quindi una volta apprese le informazioni sull'origine delle sue spade si chiederà come mai una spada del paese di wano fosse finita nel list blu king nel frattempo attaccherà zoro con una nuova tecnica chiamata barizodon con la quale lancerà una raffica di onde d'urto sbattendo le ali zoro bloccherà gli attacchi e poi recupererà la enma ma la enma ricomincerà ad assorbire il suo aki king arriverà dove si trova zoro e lo colpirà con una delle sue ali zoro bloccherà l'attacco ma il terreno si romperà e zoro cadrà in un'aria all'interno del castello mentre cadrà zoro ricorderà un'altra conversazione avuta invece stavolta con momonosuke il ragazzino disse a zoro che gli è stato detto di non dire snatch zoro quella volta gli rispose che si trattava di una parola che gli ha detto il vecchio del suo villaggio non l'aveva mai detta prima e momonosuke sarà sorpreso zoro ricorderà di non aver mai saputo il nome di quel vecchio che era sempre sulla costa il giorno della sua morte zoro scoprì che il vecchio era il nonno di kuina vedremo infatti un'immagine di kuina con suo padre che piange per suo nonno zoro ricorderà di nuovo la sua conversazione con itezu itezu gli disse che il fabbro shimotsuki kosaburo ha infranto le leggi e ha lasciato wano più di 50 anni fa vedremo a questo punto un flashback ambientato tra i 10 anni nel passato e proprio nel villaggio shimotsuki in questo flashback dopo aver perso di nuovo contro kuina zoro si recherà sulla costa per continuare ad allenarsi ci sarà il vecchio che zoro ricorda e che insegna al piccolo spadaccino la parola snatch zoro chiederà al vecchio se una volta era un samurai dal momento che tutti nel dojo lo dicono kosaburo gli dirà di non dire nulla al riguardo altrimenti i marines verranno a prenderlo quindi dirà a zoro di voltarsi e andarsene zoro farà la linguaccia al vecchio e se ne andrà per continuare il suo addestramento kosaburo osserverà zoro mentre si allena e gli domanderà se si è annoiato al dojo zoro risponderà che ha perso di nuovo contro kuina e che quindi deve continuare ad allenarsi ed è proprio kosaburo che darà a zoro due spade per esercitarsi zoro sarà scioccato e gli dirà che non ha i soldi per pagarle kosaburo gli dirà che non importa gli dirà che queste spade sono l'unica cosa che può fare adesso gli dirà di usarle per fare pratica dirà che le spade sono strumenti per togliere vite create per uccidere le persone i fabbri progettano spade per prendere quante più vite possibile zoro in tutto ciò non risponderà kosaburo continuerà dicendo che ogni spada ha la sua personalità e lo spadeccino deve imparare a vincerla dirà che è assurdo definire una spada pericolosa una spada maledetta aggiungerei che le spade maledette sono solo spade famose che sono temute dai deboli ecco perché le chiamano maledette la spada fa paura semplicemente perché sta svolgendo il suo dovere per cui è stata creata accennerà poi ad una spada che ha creato quando era giovane dirà che era il capolavoro della sua vita era una spada molto seria nel fare il suo dovere e infatti ha dato a quella famosa spada il nome del re degli inferi ebbene sì ragazzi stiamo parlando della Enma si tornerà al presente zoro è stessa a terra con la faccia sorpresa finalmente avrà capito tutto zoro dirà che il re degli inferi è Enma e il nome del villaggio è Shimotsuki quindi si chiederà se non è stata una coincidenza finalmente ci è arrivato ragazzi zoro ricorderà come i bambini del villaggio Shimotsuki dissero che il villaggio era stato creato dai pirati molto tempo prima sono stati i loro nonni a dirglielo poi ricorderà di nuovo le parole di Itetsu e zoro nel presente capirà che quel vecchio che era un samurai del paese di Wano era il famoso fabbro Shimotsuki Kozaburo e a questo punto zoro ricorderà altre parole di Kozaburo in passato gli disse che le spade famose guardano sempre gli umani e scelgono uno spadaccino che ritengono opportuno zoro ricorderà anche le parole di Hippomatsu a Rogue Town il quale gli disse che una spada sceglie chi la impugna a questo punto zoro guarderà Enma che sarà inchiodata a terra nonostante non sia nella sua mano la spada è ancora attiva e spellerà del fumo il braccio di zoro sarà ancora influenzato dall'assorbimento di Haki da parte della spada Enma zoro dirà che è finalmente arrivata questa è la spada che lo ha scelto e adesso lo sta mettendo alla prova zoro afferrerà la Enma il suo braccio tornerà alle dimensioni normali King sarà di fronte a lui zoro dirà che è vero che una spada non ha rancore per natura ciò significa che il suo potere non è ancora abbastanza domanderà alla Enma se Oden riuscisse a combattere con facilità anche con così tanto Haki che gli veniva prosciugato alcuni pirati delle cento bestie si avvicineranno all'aria per aiutare King alcuni di loro crederanno che se sconfiggono zoro otterranno una promozione zoro continuerà a pensare si chiederà cosa deve fare per stabilizzare il suo Haki se gli permette di scatenarsi così tanto può finire per togliergli la vita ed improvvisamente i pirati delle cento bestie inizieranno a svenire con la bava alla bocca zoro dirà che è bello così com'è le sue tre spade saranno ricoperte di luci nere e fumo King chiederà a zoro se intende diventare un re ma zoro non capirà la domanda a questo punto ricorderà le parole che Rufy gli disse quando zoro accettò di unirsi alla sua ciurma Rufy gli disse che fosse fantastico il fatto che volesse diventare lo spadaccino più grande del mondo per questo motivo era giusto che il capitano divenisse il re dei pirati zoro risponderà a king sorridendo e con uno sguardo di sfida gli dirà di sì ha fatto una promessa al suo capitano e al suo migliore amico gli spoiler di mille pagine di capitolo finiscono qui ragazzi immaginavamo sarebbe stato lungo infatti così è stato per concludere vi avvisiamo che ieri sera su Italia 2 One Piece ha totalizzato 45.000 spettatori e per la seconda settimana consecutiva registra così un dato basso potrebbe essere solo un caso sfortunato ma noi ragazzi continuiamo come sempre a guardare One Piece hashtag salviamo One Piece e non molliamo grazie a tutti voi per quello che state facendo per come lo state seguendo ragazzi siete davvero tantissimi siamo in tantissima a seguirlo purtroppo però i numeri non sono quelli esplosivi ma noi ci siamo sempre lo stesso e quindi chissà continuando così magari riusciremo a farcela lo stesso però dobbiamo continuare ricordiamo che gli episodi trasmessi mercoledì vanno in onda in replica giovedì dopo le 23 sempre su Italia 2 e con questo è tutto ragazzi la prossima settimana fortunatamente One Piece non sarà in pausa se questo video ti è piaciuto metti un bel like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video alla prossima alla prossima ragazzi ciao 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 ciao